la madonna volante questi sono i bug che ti fanno capire che la madonna esiste e sta volando intorno a una luce e sembra che... ah no è un uccello non è un bug è un uccello che ha preso la madonna quindi madonna che è stata presa da un uccello che brutta cosa ok ok io stoppo che meglio mi stanno uscendo tante parole brutte